Allori, basta, basta, ora parliamo di film veri, quelli che piacciono a Stefone, questo è il trailer del nuovo film di Refn, quello di Drive, ve lo ricordate? Ha fatto un nuovo film e questo è il trailer Si fa attendere Eccolo Madonna, il king della fotografia proprio Some girls crack under the pressure You, you're going to be great Aspettate Ha fatto uno spot, ha fatto uno spot per Valentino What do you feel like? Il cinema Walk into a room It's like in the middle of winter You're the sun It's everything You know what my mother used to call me? Madonna, senti che malattia che c'è Dangerous You're a dangerous girl Ma, è tutto bellissimo She was right Ragazzi I am dangerous Signori, the king of photography NWR come si legge Cioè il nostro Refn forse, forse colpisce ancora Si, anche se ragazzi, Only God Forgives faceva cacare i morti Però gli vuoi bene, lo guardi, di questo trailer in realtà io ho un po' paura Un trailer inquietante con dei colori inquietanti, con delle attrici inquietanti Anche Only God Forgives esteticamente era bellissimo E questo vorrei saperne di più sulla trama Sapete che fa Refn, gira i film In ordine cronologico Cioè In ordine di sceneggiatura Cioè che a livello produttivo è come raddoppiare il budget di un film Questo ovviamente lo mettiamo in classifica Esatto Nella puntata di Hitmania Trailer Hans, Hans, Hans Questa mattina ci siamo svegliati e c'era questo regalo nel web Ve l'abbiamo usato Sabato Sabato c'è Hitmania Trailer e lo trovate in classifica Sicuramente Perché ci ha stuzzicato la vita Ciao Ciao